Questo servizio è offerto dalla Voce del Popolo, il settimanale della Diocesi di Brescia. Si è svolto sabato 4 maggio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia un convegno dedicato alla figura di Paola di Rosa, Santa Maria Crocifissa di Rosa, fondatrice delle Suore Ancelle della Carità. L'occasione è dettata dal bicentenario della sua nascita. Per ricordare alla città il bicentenario della nascita di Paola di Rosa, le Ancelle della Carità hanno scelto una formula nuova, quella della composizione drammaturgica, capace di unire importanti riflessioni sulla vita e sulla spiritualità della Santa Fondatrice con momenti in cui la conoscenza di questa figura di primo piano della Santità Bresciana è affidata alla parola recitata e alla musica. Il risultato è Paola di Rosa, parole, gesti, armonie, andato in scena sabato 4 maggio nella sala polifunzionale dell'Università Cattolica di Via Trieste. Regista della proposta è Antonio Fuso di Scena Sintetica che ha pensato al racconto su Paola di Rosa. Fare memoria della madre fondatrice delle Ancelle della Carità di Brescia a due secoli della sua nascita non significa volgere lo sguardo ad una nostalgica rievocazione dei tempi trascorsi ormai irrimediabilmente, bensì riscoprire le radici e le origini di una vicenda umana e storica ispirata e illuminata dal disegno della grazia e della provvidenza divina. Lo storico Giovanni Gregorini ha tracciato un profilo del contesto storico sociale in cui nacque e si sviluppò la chiamata alla santità di Paola di Rosa. Valeria Boldini ha concentrato il suo intervento sulla spiritualità di Paola di Rosa che seppure giovanissima non esitò a pronunciare il suo sì a una chiamata che la voleva vicino agli ultimi, alla sofferenza degli inizi dell'Ottocento.